A scuola di Maria Regina della Pace, dicembre 1984. Alla fine dell'incontro di preghiera, preparatevi a ricevere la benedizione cantando il Padre Nostro. Figli miei, questo desidero dire al gruppo e a tutto il mondo, io sono la vostra mamma che desidera unirvi tutti. Satana cerca di distruggere in voi tutto ciò che ho costruito in questi anni, non glielo permettete. Pregate e amatevi gli uni gli altri. Voi potrete vincere Satana solo per mezzo della preghiera, dell'amore, dell'umiltà e dell'abbandono totale a Dio, e non con le vostre forze e con l'orgoglio umano, perché Satana gode quando vi sentite orgogliosi e quando vi fidate delle vostre forze. Desidero che nei giorni della novena di Natale si immediti su questi temi. Aprite i vostri cuori perché Gesù vuole abitare in essi dopo Natale. Accogliete il Natale con gioia. Purificatevi per il Natale. D'ora in avanti lasciate che Gesù abbia il primo posto nei vostri cuori. Lasciate che solo Gesù vi dia gioia. Lasciate che l'amore sia nelle vostre parole. Nasce l'uomo Dio che vuole il mondo unito. Vivete in Gesù. Non separatevi dal Natale. Cari figli, fate sì che la Chiesa profumi di Natale e che il Natale sia già sui gradini della vostra casa. Purificate i vostri cuori così da essere pronti a ricevere Gesù a Natale. Non lasciate che le cose materiali prendano il sopravvento sul Natale di Gesù. Cari figli, nasce Gesù. Ricevetelo con cuore gioioso. Desidero che ciascuno di voi prepari nel proprio cuore una mangiatoia per Gesù. Cari figli, desidero che siate come un fiore che sboccia a Natale per Gesù. Un fiore che non appassirà e che non cesserà di fiorire anche quando il Natale sarà passato. Desidero che i vostri cuori siano come i pastori di Betlemme davanti alla mangiatoia di Gesù. Desidero che questo sia per il gruppo un Natale luminoso. Oggi è la festa della vostra madre di bontà, d'amore e di misericordia. In questo giorno vi do una benedizione speciale che non ho mai dato a nessuno prima d'ora. Accoglietela, non trascuratela. Desidero così che in voi fiorisca un grande amore e una grande pace. Grazie. Grazie.